Grazie mille, grazie per questo invito. Sono un po' emozionato, devo dire, per due ragioni. La prima è che, essendo un economista che si occupa di statistica, e a un convegno che organizzai anni fa, un primo ministro disse che voi economisti, voi statistici, avete cominciato a rovinare il mondo quando avete inventato il PIL e quindi presi due schiaffi invece che uno. Forse oggi cercherò in qualche modo di riscattarmi, ma la seconda emozione viene dal fatto di dibattere oggi un tema che non solo mi è molto caro, ma che ho avuto anche modo, anche se brevemente, di dibattere con Papa Voitiva quando alcuni anni fa, dopo la pubblicazione della Centesimus Annus, organizzai un gruppo di lavoro per studiare quella enciclica che è assolutamente straordinaria. E in realtà c'è una sequenza che oggi ci porta alla rilevanza di questo dibattito. E vorrei partire dalla Populorum Progressio, che certamente ha avuto un ruolo straordinario nel dibattito anche internazionale sullo sviluppo, sull'economia, ricordando che quella parola progressio fu tradotta in inglese con sviluppo, non con progresso. Perché faccio questo riferimento? Perché il progresso, che ha una storia anche ideale, che viene da lontano, addirittura dai greci, dopo la Seconda Guerra Mondiale, visto che sia il comunismo che il nazifascismo lo aveva utilizzato come elemento finale del proprio agire, era stato bandito dai filosofi. Con quale risultato? Che abbiamo cominciato a parlare di progressi, al plurale, il progresso economico, il progresso tecnologico, il progresso umano, come se queste cose potessero andare ognuno per la sua strada. E abbiamo in qualche modo abbandonato l'idea dell'unitarietà, non solo della persona, ma della nostra società. Vedete, si dice che l'uomo misura ciò a cui tiene e pone attenzione a ciò che misura. La statistica nasce come scienza dello Stato per misurare quello che altrimenti non potremmo misurare, ma in realtà influenza straordinariamente la nostra vita, come il Ministro Tremonti sa bene, perché ogni volta che lui vede delle statistiche, sa, e oggi su Sole 24 Ore c'è un articolo che cerca di spiegare come gli indicatori influenzano le borse, sa che qualcosa succederà. Ma se noi statistici misuriamo le cose sbagliate, allora siamo nei guai. Perché facciamo prendere decisioni sbagliate. Non è che il prodotto interno lordo sia sbagliato in sé come misura dei servizi e i beni prodotti, ma se ci basiamo solo su quel numero o solo su qualsiasi altro numero, che sia il debito, il deficit, oppure l'indice di borsa, per dire che il nostro Paese, la nostra società, va come dice quell'indicatore, sbagliamo. Ecco perché la discussione sugli indicatori di sviluppo o di progresso, oggi è tornata così prepotentemente alla ribalta. Cioè nel momento in cui la società si rende conto che il suo modello di sviluppo non funziona più, si rivolge agli esperti e dice, ma allora aiutateci a capire, alla fine della giornata, noi stiamo progredendo o stiamo regredendo? In questo caleidoscopio di cifre, noi statistici o economisti, abbiamo una responsabilità straordinaria. E io sono particolarmente fiero e contento del fatto che già nel 2004, quindi prima della crisi, quando ero all'Ox a Parigi, insieme a molti altri amici, mettemmo insieme una riflessione mondiale sull'argomento che poi ha spinto Obama, Cameron, Sarkozy e tanti altri a domandarsi se non stiamo prendendo lucciole per le lanterne, diciamo così, guardando agli indicatori sbagliati. E quindi facendoci un'idea di noi che non è quella giusta. Perché questo è così legato a quello che Stefano Zamagni ci ha ricordato? Perché il valore, come richiama il tema di questo convegno in generale, di questa riflessione, il valore o ci mettiamo d'accordo che è una cosa o altrimenti prendiamo decisioni sbagliate. E qui vorrei partire dalla laborem excessens, il primo paragrafo. L'uomo, mediante il lavoro, deve procurarsi il pane quotidiano e contribuire al continuo progresso o, la parola è tornata, tra l'altro, delle scienze e della tecnica e soprattutto all'incessante elevazione culturale e morale della società. E con la parola lavoro viene indicata ogni opera compiuta dall'uomo, indipendentemente dalle sue caratteristiche e dalle circostanze. Cioè ogni attività umana che si può e si deve riconoscere come lavoro in mezzo a tutta la ricchezza delle azioni, non la ricchezza delle nazioni, delle quali l'uomo è capace e alle quali è preposto dalla sua stessa natura, in forza della sua umanità. Se noi pensiamo che il lavoro sia soltanto il flusso di reddito che viene dal lavoro retribuito, allora tutto sommato il PIL è una buona misura. Ma se pensiamo che invece il progresso di un Paese dipende da molti altri aspetti, allora il PIL e quella valutazione non basta più. La faccio breve perché questa riflessione, che ormai va avanti da molti anni, ma che si è in qualche modo concretizzata grazie a queste iniziative che a livello mondiale abbiamo fatto e che stanno portando insieme gli economisti e gli statistici a ragionare su delle categorie comuni, ci ha spinto a dire che dobbiamo concentrarci su quello che chiamiamo benessere equo e sostenibile. E il progresso nasce quando il benessere equo e sostenibile aumenta. Ma cos'è il benessere equo e sostenibile? Attraverso anche la commissione di cui ho avuto il piacere di far parte con cinque premi Nobel, eccetera, la cosiddetta commissione Stiglitz, siamo arrivati a dire bene oggi il benessere è fondamentalmente composto dalle seguenti componenti. La salute, l'educazione, ciò che si sa, ciò che si conosce, il lavoro e il tempo libero, i rapporti interpersonali, il ruolo che ognuno svolge nella società, naturalmente la ricchezza materiale e l'ambiente. Queste sette dimensioni fondamentali vanno però declinate in modo intergenerazionale e intragenerazionale. Cosa vuol dire? Vuol dire l'equità, cioè non solo l'equità del reddito, della distribuzione del reddito, ma della speranza di vita, della salute, dell'educazione e poi l'equità intergenerazionale, i rapporti tra le diversi stati della società, cioè la sostenibilità. Se allora ragioniamo in questo modo, e chiaramente il discorso si complica, riusciamo forse a rimettere insieme il concetto dell'uomo di cui parlano le encicliche, il concetto di economia civile di cui parlava Stefano Zamagni e tutto sommato le aspirazioni di noi umani. Ma se ragioniamo in questi termini e supponiamo che noi statistici potessimo misurare tutto questo, la vera domanda è cosa cambierebbe per la politica? Perché queste misure cambiate dovrebbero far cambiare la politica? E qui vado in Australia, agli antipodi, dove dal 2001 il Ministero del Tesoro australiano ha sviluppato il loro framework, il loro schema del benessere. e cercano di valutare l'impatto delle politiche rispetto ad alcune dimensioni chiave. Prima, l'opportunità. Se la mia politica accresce l'opportunità per le persone, per spendere, educare, conoscere, quello che sia, allora questa cosa la devo valutare. Ma dall'altro lato devo valutare la sostenibilità. La politica che sto per adottare aumenta o meno la sostenibilità, non solo ambientale, ma anche economica e sociale? Terzo elemento, il rischio. Se la mia politica sposta drammaticamente il rischio da un soggetto a un altro, e questo secondo soggetto non è in grado di gestire il rischio, io sto facendo del bene alla società e poi l'equità. Cito il caso australiano per dire che se cominciamo a ragionare in modo diverso, anche la politica può cominciare a ragionare in modo diverso e forse rispondere a quella domanda di unitarietà di cui parlavo prima. Ma solo la politica? No. Anche le imprese. Il concetto di corporate social responsibility, cioè della responsabilità sociale d'impresa, che molte imprese vedono ancora come uno specchietto per le allodole con tutti i loro indicatori per dire guardate come siamo bravi che smaltiamo i rifiuti così investite su di noi, è molto di più che questo specchietto per le allodole. È l'idea di cui parlava Zamagni che il valore aggiunto non è creato solo per me ma è creato per tutta la società. E allora io mi faccio carico della società, non solo perché non inquino, ma perché mi occupo del benessere dei lavoratori che passano 8-10 ore in queste mura, ma mi occupo della loro sicurezza, mi occupo della prospettiva, eccetera, eccetera. Allora, se lo Stato comincia a usare queste categorie usando ad esempio schemi come quello australiano, se le imprese cominciano a ragionare con questi schemi che anche a livello mondiale si stanno affermando, purtroppo molto lentamente, cosa fanno le famiglie, cosa devono fare le famiglie, gli individui, beh, anche essi devono cominciare forse a ragionare in termini diversi. E questo mette in crisi ciascuno di noi. Nel momento in cui passa ai propri figli degli ideali, passa l'ideale di diventare più ricchi il prima possibile, come un mio compagno di classe si sentì dire dal padre, che quello doveva essere l'obiettivo della sua vita, oltre che naturalmente avere più donne possibili. E' questo che passiamo ai nostri figli? Oppure passiamo ai figli un senso di responsabilità complessiva, anche nelle generazioni future? Perché la domanda è questa? Perché il nostro stile di consumo, mia moglie mi richiama ogni volta alla raccolta differenziata, non buttare l'acqua calda e così via, e io purtroppo non sono molto attento nonostante tutte le belle chiacchiere che oggi vi faccio, passa anche per i nostri stili di consumo e di vita. Allora non si può buttare solo la croce addosso alla politica che non fa quello che deve fare, buttare la croce addosso soltanto alle imprese che non fanno quello che devono fare, tocca anche a noi. In primo luogo pensare in modo diverso. Se la mettiamo così e mi avvio alla conclusione, capiamo che quello di cui stiamo parlando non è statistica, non è economia, ma è la nostra stessa vita. Ed è qui dove credo la crisi entra a gamba tesa per usare una metafora calcistica e ci interroga molto di più di quanto forse noi ci facciamo interrogare. Ma la cosa interessante è che in tanti paesi stanno nascendo iniziative diverse per rispondere alla crisi non con i soliti strumenti, ma anche con una coesione sociale che passa attraverso la condivisione. La condivisione che è condivisione non solo di reddito, ma è di tempo. Nella Commissione Stiglitz tentando di mettere insieme in un unico indicatore tutto, abbiamo deciso che non è possibile perché non tutto come dice con la pubblicità ha un prezzo, abbiamo immaginato che l'unico numerario così si dice comune può essere il tempo. Cominciare a pensare in termini di tempo forse ci aiuta a distaccarci da quell'ansia dell'oggi e del domani che non solo fa quelle oscillazioni pazzesche sui mercati finanziari che non hanno alcun senso, ma anche il senso d'angoscia che molti sentono perché il futuro è diventato così incerto. Questo ripensare al tempo, questo ripensare a questo benessere eco e sostenibile forse può essere la strada d'uscita, ma è un'opera titanica che non è che risolve il Presidente dell'Istat o un economista da solo. Per questo abbiamo coinvolto in Italia al CNEL, faremo delle consultazioni pubbliche per cercare di arrivare insieme alle forze sociali e imprenditoriali e ai cittadini come sta facendo Cameron negli Stati Uniti a raggiungere un nuovo paradigma. Concludo con due citazioni poiché il nostro dibattito va dalla Borem alla Caritas concludo con la prima citazione dalla Caritas l'assolutismo della tecnica tende a produrre un'incapacità di percepire ciò che non si spiega con la semplice materia eppure tutti gli uomini sperimentano i tanti aspetti immateriali e spirituali della loro vita conoscere non è un atto solo materiale perché il conosciuto nasconde sempre qualcosa che va al di là del dato empirico e lo dice al presidente dell'Istat ogni nostra conoscenza anche la più semplice è sempre un piccolo prodigio perché non si spiega mai completamente con gli strumenti materiali che adoperiamo in ogni verità c'è più di quanto noi stessi ci saremmo aspettati nell'amore che riceviamo c'è sempre qualcosa che ci sorprende riuscire a sorprenderci perché i paradigmi attuali possono e devono essere cambiati e direi la precondizione per cambiarli e vorrei concludere con una citazione di cui non vi dico l'autore inizialmente così ragionate voi stessi un politico un politico che tempo fa disse la seguente cosa la gente di questo paese è stata erroneamente incoraggiata a credere che si potesse aumentare indefinitamente la produzione e che un mago avrebbe trovato un modo per trasformare la produzione in consumi e in profitti per i produttori la felicità non viene unicamente dal possesso dei soldi ma dal piacere che viene dal raggiungimento di uno scopo dall'emozione che deriva dallo sforzo creativo la gioia la tensione morale non devono più essere dimenticate a favore di una folle ricerca di profitti evanescenti noi dobbiamo affrontare insieme le comuni difficoltà ma grazie a Dio tali difficoltà riguardano solamente cose materiali senza distinzione di partito la grande maggioranza del nostro popolo cerca l'opportunità di far prosperare l'umanità e di trovare la propria felicità il nostro popolo riconosce che il benessere umano non si raggiunge unicamente attraverso il materialismo e il lusso ma che esso cresce grazie all'integrità all'altruismo al senso di responsabilità e alla giustizia queste parole vengono da Franklin Delano Roosevelt 1933 nel momento peggiore della crisi del 29 un politico si alza anzi dal caminetto in cui parlava agli americani e dice queste frasi beh io credo che se nella grande crisi che stiamo affrontando che è molto più complessa qualcuno si alzasse e tanti politici avessero il coraggio di parlare in questo modo credo che tutti avremo molta più speranza nel futuro grazie grazie a tutti